Il successo di una casa non si misura solo sulle vendite delle piccoline. Scopriamo allora con il nostro ospite in studio le carte vincenti di Hyundai. Ritroviamo qui in studio un ospite che accogliamo con piacere. Mi riferisco ad Andrea Crespi, direttore generale Hyundai Motor Company Italia. Buonasera Andrea. Buonasera e un benvenuto a tutti i tuoi telespettatori. Grazie. Come sempre Andrea ci è venuto a trovare in compagnia di una vettura della vostra gamma, e in questo caso abbiamo qui proprio in studio la nuova Hyundai Santa Fe fresca di completo restyling. Prima di addentrarci proprio nelle peculiarità della nuova vettura intanto vorrei un attimo partire da una domanda sfruttando un po' la tua competenza da detto ai lavori. Santa Fe si inserisce in un segmento di mercato, quello dei SUV, che volevo un attimo capire con te che periodo sta vivendo in Italia, soprattutto in particolare con una contaminazione, con una rilevanza che ha assunto negli ultimi anni dei crossover, che hanno un po' tolto un peso specifico rispetto ai SUV. Assolutamente, è un fenomeno entusiasmante se vogliamo chiamarlo così, se lo vediamo sul mercato. Si è fatto un po' un'evoluzione in quella che è l'utilizzo della vettura, perché da un utilizzo tra virgolette tradizionale si passa ad amare la versatilità, queste vetture vanno molto bene sia sulle autostrade, sia sugli sterrati, quando si fanno percorsi misti, non si rinuncia al comfort e soprattutto alla guidabilità. C'era qualcuno che storceva un po' il naso, soprattutto l'opinione pubblica, ce l'avevano un po' spesso con una guida dei SUV che era un po' arrogante. È passata un po' secondo te questa... Sì, assolutamente, è passata sulla scorta del fatto che il grandissimo pubblico ha abbracciato questi mezzi, sono diventati ormai di uso comune, è successo dei SUV un pochino più piccoli, ha proprio sancito, ha completamente sdoganato il veicolo SUV. Hyundai si inserisce in questo contesto in realtà diversi anni fa, proprio con Santa Fe, che è un po' una tra le antesignane, se vogliamo. Per noi il segmento SUV è stato sempre un pilastro del nostro rapporto con la clientela. Quello che diciamo oggi per noi SUV sono design, comfort, ma anche tanto divertimento, tanto spazio con la famiglia, nelle vacanze, nell'utilizzo quotidiano della vettura in città. Abbiamo citato Hyundai Santa Fe, ma ricordiamo anche il best seller X35. Due tipologie di clientela differenti? Beh, diciamo, l'X35 è stata proprio la macchina Hyundai per eccellenza, lo è tuttora, forse è assolutamente il best seller di Hyundai assieme alla nuova X10. Ovviamente Santa Fe è il top di gamma, è veramente un'esperienza entusiasmante nella guida, perché questa vettura ha sostanzialmente, praticamente tutto di serie. Ci sono, diciamo, delle configurazioni di prodotto estremamente semplici da comprendere, dove il cliente ha praticamente tutto già a sua disposizione. Ecco, uno sguardo importante riguarda la linea estetica. Mi posso informare in particolare sul frontale. Il frontale è veramente un frontale che può essere paragonato a una vettura di segmento premium? Assolutamente, ed è lì, diciamo, secondo me l'elemento vincente di questa vettura, che parte proprio, come dicevamo, dal design, senza rinunciare alla piacevolezza della guidabilità. Ecco, sui consumi cosa possiamo dire? Vetture come questa sono indubbiamente pesanti, hanno un peso piuttosto considerevole. Come avete lavorato da questo punto di vista? Ma guarda, le motorizzazioni ovviamente sono adeguate alla vettura. Noi abbiamo due motorizzazioni, due trazioni e due trasmissioni manuale ed automatica. Ovviamente i motori sono diesel con diverse potenze, da 150 cavalli fino a 197 cavalli. E devo dire che i consumi sono assolutamente in linea con quello che è il segmento. Nessun tipo di problema da questo punto di vista. Ovviamente, Andrea, ricordiamo, versione a trazione rigorosamente integrale. No, certo. Anche lì abbiamo, ovviamente, anche la trazione a due ruote motrici, ma la grande scelta da parte della clientela è sempre sul trazione integrale, perché è proprio, diciamo, l'apoteosi di Santa Fe. Certo. Come lo avete posizionato dal punto di vista di costo? Il segmento dei SUV, da questo punto di vista, è molto competitivo. Partiamo da un livello di entrata, diciamo, poco vicino ai 32 mila euro, fino ai 42 mila euro della versione a quattro ruote motrici e a trasmissione automatica. Tutte le Hyundai sul mercato, compresa ovviamente la Santa Fe, hanno cinque anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Quindi è Hyundai che si occupa di questa vettura per cinque anni dall'acquisto. Ecco, ci siamo concentrati, ma era a ragion veduta, vista la presenza di studio di Santa Fe, su questo modello. Ricordiamo in una battuta anche X35, perché X35 a distanza di qualche anno dalla sua commercializzazione continua veramente a regalarvi grande soddisfazione. Continua a regalarci grandissima soddisfazione, continua ad essere amatissima dal grande pubblico. Veramente ancora un anno di grandissime soddisfazioni, probabilmente anche supportato e, come dire, facilitato dal fatto che questa vettura oggi viene venduta con la formula I Plus, quindi con un semplice formula di finanziamento nella quale il cliente può dare un anticipo pari a metà del valore della macchina, non paga nulla per due anni e poi alla fine dei due anni ha le tre scelte di tenere l'auto, restituirla o cambiarla. A fare un po', diciamo, a chiudere il cerchio, io menzionerei la I10, perché noi all'inizio anno ti abbiamo ospitato in studio proprio con il modello più piccolo, ma che aveva rivissuto una completa rivisitazione. A distanza di qualche mese, già a tempo di Milanci. Prima di andare in vacanza, che risultati possiamo dare? Beh, anche qui credo che sia vincente il fatto che la vettura si presenta con dei contenuti estremamente sostanziali per il cliente, con un design accattivante, con spazio all'interno della vettura, una vera e propria city car per guidare nelle nostre città. Alla fine i valori e i contenuti dei prodotti possono cambiare nelle dimensioni, da Santa Fe ai 10, ma l'essenza del brand Hyundai e dei valori e contenuti che vengono trasferiti a chi li utilizza sono assolutamente sempre gli stessi. È un'essenza che tra l'altro si riconferma sui terreni sterrati, ma non con le vetture a trattazione integrali, bensì con vetture che hanno tanta potenza, e mi riferisco alla vostra presenza sui rally. Da tanti punti di vista questo brand per voi deve crescere a livello di immagine in maniera veloce? Lo dobbiamo portare a conoscenza del più grande pubblico e quali migliori platee del motorsport e quindi del mondiale rally. Abbiamo iniziato a Monte Carlo, abbiamo proseguito in Sardegna, andremo in Polonia e devo dire che il risultato, ovviamente come primo anno di training, se vuoi, e di riuscire a stare al passo con tutti i concorrenti, sta andando molto bene. Stiamo facendo esperienza, tanti chilometri, sicuramente una platea eccezionale per far vedere le qualità del prodotto e anche l'aggressività sportiva di Hyundai. Proprio prima di chiudere, un'ultima considerazione la faccio guardando al Salone di Parigi che svelerà diverse anteprime per voi Hyundai, quindi la domanda è che cosa ci sarà a Parigi e soprattutto quale sarà per Hyundai il segreto nella seconda parte dell'anno? Sono sicuro e vi prometto che per il Salone di Parigi presenteremo delle novità entusiasmanti, attaccheremo il mercato con prodotti di altissimo volume e riserviamo una grandissima sorpresa proprio per la fine di settembre, l'inizio di ottobre. Bene, grazie Andrea Crespi, direttore generale Hyundai Motor Company Italia. A presto. Grazie, grazie a te.